Risveglio nella reggia! Hola, benvenuti, bentornati a tutti in Risveglio nella reggia. Questa qua è la reggia che ci accompagnerà nei prossimi giorni. Stiamo facendo un bel viaggetto. Inizieremo a fare un bel viaggetto all'avventura in giro per l'Italia. Prima tappa a Mantua. Poi dopo prevediamo di andare qualche giorno sul lago di Garda. E poi dove ci porta la corrente, vediamo. Tanto qua si dorme in quattro belli tranquilli. Stalca il dulcio, doccia della madonna, che dire. Prima esperienza in camper. Speriamo vada bene. Siamo nella chiesa di San Sebastiano, dove trovano posto diversi modelli che riproducono i progetti di Leon Battista Verdi. Veramente belle. Grazie a tutti. 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 Si può tranquillamente dire che non ci sono parole per descrivere il Palazzo Tè. Mai visto niente di simile. Ogni stanza è più bella dell'altra e lascia sempre più a bocca aperta. È pazzesco. Grazie a tutti. 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 La chiesa è stata fatta da modello di costruzione per San Pietro e per la basilica dei Gesuiti, per cui tutte le chiese dal 1400 in poi sono state costruite su questo modello. È anche uno, anzi, il posto più importante per la cristianità perché è il posto dove viene è custodito il sangue di Cristo, quindi secondo i credenti questo posto nella cripta contiene l'unica traccia biologica di Gesù. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.